Che cos'è oggi per De Gregorio una canzone? Una canzone è sotto gli occhi di tutti, noi sappiamo benissimo cos'è, anche la gente che dice ah io le canzoni non le sento, in realtà le sente, quindi la canzone è una parte del nostro quotidiano, vorrei dire una parte della nostra cultura quotidiana, ed è come un film, ed è come un libro, come una poesia, vorrei dire a volte è meglio di una buona canzone, è sicuramente meglio di una brutta poesia o di un brutto film, è un, per usare una parola brutta, è un segmento della nostra cultura, della cultura di questi anni, che arriva alle orecchie, alle teste delle persone ed ha un peso, ha un suo valore, modifica forse la vita degli altri, in poco, in meglio, in peggio, non lo so, però è importante, si dice le parole sono come pietre. Pezzi di stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione, pezzi di ceramica, pezzi di retro, pezzi di occhi che si guardano indietro, pezzi di carne, pezzi di carbone, pezzi di sorrisi, pezzi di canzone, pezzi di parole, pezzi di parlamento, pezzi di pioggia, pezzi di fuoco, spento, ognuno fa proletta il suo conflitto, ognuno merita il suo destino, chiudi gli occhi e vai in Africa, c'è l'estino. Pezzi di strada, pezzi di velocità, pezzi di marciapeli, pezzi di pubblicità, pezzi di cuori, pezzi di feri, pezzi di chilometri, pezzi di metri, pezzi di come, pezzi di così, pezzi di plastica, pezzi di MTV, pezzi di scampio, pezzi di scampio, pezzi di scampio, pezzi di gente che si tiene e fa, comune figlio del suo bel poignolo, e complice del suo destino, chiudi gli occhi e vai in Africa, c'è l'estino. Pezzi di pericolo, pezzi di coraggio, pezzi di vita che diventano viaggio, pezzi di Pasqua, pezzi di Natale, pezzi di Veneta, pezzi di male, pezzi di mascazzone, pezzi che non sei altro, pezzi di velocità lungo, pezzi da sfondo, pezzi di friccio, pezzi di legrina, pezzi di coda da accusare, pezzi di diossino, ognuno porta la sua croccia, ognuno giampa nel suo cammino, chiudi gli occhi e vai in Africa, c'è l'estino. Pezzi di emozione che non si interrompe, pezzi di musica sotto le bombe, pezzi di maggioranza, pezzi di opposizione, pezzi di speranza e pezzi di informazione, pezzi di ferro, pezzi di cemento, pezzi di deserto, pezzi di frumento, pezzi di cenzo, pezzi di petrolo, pezzi di cherosene, pezzi di gasolio, ognuno brucia come vuole, ognuno è vittima e l'assassino, chiudi gli occhi e vai in Africa, c'è l'estino. Grazie.